Ehi là, come va? Io sono Lorella e oggi cominciamo una nuova serie da Poraccia a Riccona, cioè la Rags to Ricci. Lei è Susanna Lai ed è la protagonista della nostra storia. È venuta ad abitare qui a Tartuosa e come potete vedere dalla faccia non è molto contenta. Eh già, perché abita proprio in mezzo al nulla. L'unica cosa che la ripara è quest'albero. Siamo anche in autunno ed è il primo giorno e quindi anche la stagione non è che l'aiuta. Quindi la nostra ragazza deve darsi da fare per guadagnare assolutamente un po' di soldi. La mandiamo quindi subito in biblioteca dove potrà cominciare a scrivere dei libri e guadagnare un po' di soldi. Eccola qui arrivata in biblioteca e adesso lei si dirige in fretta perché prima di sera vediamo se riesce a comprarsi almeno un letto. Poverina, oddio che ha fatto questo disperato. Allora il titolo del libro è Accarezzando il tasso ed è un libro per bambini. È il suo primo libro quindi deve un po' arrangiarsi. Perfetto, è riuscita a scrivere il suo primo libro. L'ha appena finito. Questo, che cosa dice qui? Esistono tanti modi diversi di guadagnare qualche simoleon. Impariamo le basi... No, lasciamo stare, va? Allora, adesso lei farà anche qualche foto per guadagnare un po' di soldi. Sta ancora a zero. Ecco, uno, due, tre, quattro, oddio questa è buffissima, e cinque. In più si scatterà qualche selfie. Ok, e tutte queste belle foto ne andrà a 20. Accidenti, ha già fatto 71 simoleon. Perfetto. La nostra amica però ha un caratterino un po' particolare perché è una ficca naso ed è una cleptomane ed è anche scaltra, è creativa ed ha la sapienza affaristica, il che può aiutarla nella vita. Ma vediamo un po' che cosa può fare. Per esempio, può andare qui e può spiare di nascosto Victor sperando che non si faccia beccare. Lui è di spalle e non dovrebbe vederla. Vediamo se riesce a capire qualche segreto. No. E allora andrà a spiare... Sì. Ai 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 ai. Oh oh. Ah, non c'è corto di niente. Romane. Niente, non è successo proprio niente. Io a questo punto direi di provare a mandarla al museo. Eccoci qui. È arrivata al museo e adesso cercherà di rubare qualcosa sperando che glielo permetta. Che ce lo permetta. Vediamo un po' cosa può rubare. Non ci fa prendere niente. Vabbè, allora nel frattempo... Perché non la fa dipingere? Nel frattempo vediamo se può dipingere un quadro. No. Ah, e l'ha rubato lei. Perfetto. È fantastico. Accidenti, ma non può rubare proprio niente. Non c'è un'altra tavolozza qui? Sembra di no. Non è molto fortunata la ragazza, eh? Vabbè. Approfittiamone per farla andare al bagno e per farla lavare un po'. E poi magari andrà a cercare qualcosa da mangiare. E ne approfitterà per fare qualche foto ancora. Finché il giorno. Nel frattempo vediamo se c'è qualcosa. Allora, qui può scavare. Mmm. Mmm. Queste cose ancora non si possono prendere. Eh, un bel melo ci sarebbe stato proprio bene. Oh, non può raccogliere niente. Accidenti. Un bel pero. Mmm. Devo ricordarmi di venire qui al museo perché ci stanno tante cose interessanti. però almeno lo faremo pescare. Wow, ha trovato un zaffiro. Fantastico. Mmm. Le fragole. Eh, ma non può fare niente ancora. Le facciamo cercare delle rane. vediamo se trova qualcosa, eh, la nostra amica. Intanto blocchiamo il desiderio di arraffare un oggetto. Così. Wow. Ha preso un bel pesce. Il pesce disco. Wow. Questo quanto viene? 18. Dai, cerca di pescare un altro pesciolino, cara Susanna. Forza, forza. Niente, si è scocciata. Eh, sì, pesci troppo scaltri. Vediamo invece come se la cava adesso con la rana, eh. Cioè, nel cercare le rane, intendo. Vediamo un po' se trova qualcosa. Mmm. Ha trovato una rana. Foglia surfista. Non comune. Eh, questa devo tenermela. Pure questo non è comune. Che pizza. Ok, siccome sono cose un po' preziose, perché sono tutte cose non comuni, io preferirei lasciarmele. E ne approfitterà allora per fare altre foto. Allora, una. Due. Tre. Quattro. Vado a casa, ovviamente, eh. E cinque. Vediamo un po' quanto ci ricava. Mmm, trentadue. Non male. A questo punto lo manderei di corsa a casa, perché così potrà vendere il suo libro. Eccola qua di ritorno. Vai, pubblica per conto tuo. Ok. Ok. Così i diritti d'autore arriveranno giornalmente. Vediamo invece se da queste parti può pescare ancora. Sembra di no. Anche se devo dire che qui è un posto bellissimo. La faremo pescare qui. Vai Susanna. Vai Susi. È un po' lontanuccio, però... Vabbè. Che bella che è tartosa, ragazzi. Ecco, tartosa per esempio mi piace davvero tanto. È proprio un gran bel posto. È proprio bella, bella, bella. Mamma mia, ma che giro stai facendo, Susanna? Non arrivi più. Forza. Mamma mia. Oh. Siamo arrivati. No, ragazzi, guardate. Che spettacolo. Qui deve fare altre foto, assolutamente. È troppo bello. È proprio troppo bello. Bene, a quanto pare le piace la pesca. Dai, vediamo, vediamo. Forse è riuscito a prendere qualcosa? Eh, un ciocco di legno. Però è con tanta uguale. Vabbè. È ottimista. Dai che si sta facendo sera. Wow. È riuscito a prendere un altro pesce. Bene, brava. Ok, a questo punto direi di andare a mangiare. Dove? Non si sa. Bene, adesso facciamo altre foto. Tiè, guarda che bella. Questa poi quando avrà una casa qualcuno la mettiamo a casa. Qualcuna la mettiamo a casa, eh. Cioè, abita in un posto meraviglioso. Qua. Ne facciamo proprio a caso queste foto, eh. Giusto per guadagnare un po'. Ok. 142. Cavolo, tutti in un comune. Vediamo se qui c'è qualcosa da piantare. Sembra non ci sia niente. Accidenti. No, non c'è proprio niente. È un po' povera tartosa da questo punto di vista. Mi sembra, eh. Oh, però qui... Wow. Corri. Che cos'è questo? Cini delle tre sorelle. Dai, sbrigati. Eccola qua. È rimediato anche da mangiare gratis. Oh, è soddisfatta. Devo dire che come giornata è andata davvero bene, eh. Comunque. Fra quanto scade? Fra sei ore. Beh, ecco. Impacchetta nel pranzo al sacco. Fallo un po' di volte, così. C'hai un po' da mangiare. No, che fai? Ma che butti tutto? No, vabbè, ma sei stupida. No, vabbè. Perché fai così? Non ci credo. Mo' che devi fare? Ah, giochi una partita. E certo, sei un po' annoiata. E niente, mia cara, ti conviene andare a casa? Eh sì. Guardiamo se nel mentre trova qualcosa da piantare. Eccola qua. È tornata a casa. Molto soddisfatta, comunque. Però... Allora, le facciamo vendere i pesci. Le facciamo vendere la rana. Ah, questo quanto costa? 18. E... Facciamo chiamare il consiglio geologico. Vediamo che succede. Salve, ho trovato un diamante. Vorrei sapere... Quanto potrebbe valere? Non so. Ah, è composto da melacù. Vabbè, ma sapete che vi dico? Basta, lo vendiamo e via. A questo punto, vediamo con 205 simoleon cosa può comprare. Un letto, penso di sì. Non può comprarci il letto. Non ci credo. Allora, il primo letto utile, che mi sembra molto buono, anche se è un po' da prigione, è 270. Accidenti. E niente, le facciamo fare altre foto. Vediamo un po'. Eh, comincio ad essere stanca, eh. È meglio se la mandiamo a dormire. Questa è bellissima. Ok. Vendiamo le foto. Ah! Ragazzi, dobbiamo arrivare a 270. Facciamo dei selfie. Ok. E adesso può permettersi un letto. Ecco qui. Questo è scomodo, scomodo per gli adulti. Energia 3. Antistress. No, prendiamo questo che è buono, dai. Una cosa un po' più colorata. Mamma mia. Prendiamo questo. Ecco, glielo mettiamo qui, così è pure riparata. Alla luce. E si farà una bella dormita. Ci vediamo il giorno dopo. Ecco qui. Diamo il buongiorno alla nostra amica, che però deve andare al bagno. Ne facciamo cambiare d'abito. La mandiamo subito subito al museo. Mmm, accidenti, è una brutta giornata. Mmm. Speriamo che non si bagna. Allora, la mandiamo subito al bagno, di corsa, poverina. Perché non ce la fa più. Eccola qui. E poi si darà anche una piccola lavata. Eh, comincia ad avere fame, accidenti. si lava le mani e sta osservando un'opera d'arte. Mmm. Ah. Hai guadagnato diritti d'autore. 23 simone. Solo questi. Accidenti, è possibile che non può rubare proprio nulla? No. Vabbè. Vuol dire che la manderemo in biblioteca? A questo punto, la nostra amica scriverà un altro libro. Direi un racconto. Eccola che si siede. Ok. Storie incredibili per adulti credibili. Allora, si è presa una pausa e sta leggendo un libro di manualità. E ne stanno crescendo pure i peli. Mamma mia, è tremenda. Deve trovarsi una doccia, assolutamente. Ha finito di leggere il suo libro. Occidente ha una fame, poverina. E adesso, chiacchiererà un po' con Luca. Che non mi sembra di buon umore. Vediamo. Accidenti, è proprio arrabbiato Luca. Perché? Vabbè, la conversazione è finita, perché Luca gli erode. Vabbè, pazienza. Visto che piove, la nostra amica andrà a leggere un bel libro di pittura. Anche se ha molta fame, poverina. Accidenti, deve trovare qualcosa da mangiare, assolutamente. Ha una fame che non ci vede più. Ok. Ha finito di leggere il suo libro della pittura. però è uscito il festival di tastri e di tastri. Chissà, se raggiungiamo il festival, se può guadagnare qualcosa e soprattutto rimediare qualcosa da mangiare. Ecco qui. vediamo, 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 vediamo. Qua non c'è nulla, accidenti. Unisciti ai mattacchioni. Ah, aspetta però. Ha trovato qualcosa da mangiare. Aspetta, aspetta, aspetta. Eh, però l'ha comprata. ha mangiato qualcosa, è riuscito a mangiare qualcosa, meno male, ma ha assolutamente bisogno di fare amicizia. Le facciamo fare amicizia con Janine. Con Janine. Una bella presentazione divertente. Niente, non vuole fare amicizia con Janine. Perché non vuoi fare amicizia con Janine? Oh, ecco qua. Come mai è triste? Eh, perché si sente sola. Perché ti sei seduta con loro? Siedi lì con lei. Oh, dai. io a questo punto farei anche amicizia con Nancy Landgraab. Dai, chiacchiera un po'. No, se ne va Nancy. Vabbè. No, perché? Ma scusa, parla con lei, no? Allora, al festival lei ha conosciuto Nancy Landgraab, ha fatto un po' di foto a Nancy, che abbiamo scoperto essere una donna della mala, e ha guadagnato un po', e ha fatto amicizia anche con Janine. Io direi che a questo punto può tornare a casa, e ordinerà delle cose da mangiare, tipo un platano e la ciocobacca. Platano due, così uno se lo mangia, va? no, no, grazie, non abbiamo bisogno di te. Ok, aspettiamo che arrivi qualcuno che ci porta la spesa, si gradisce la forma fisica. Deve essere in forma. Eccola qui. perfetto, grazie signora. Che fate ne vai? Accetta la consegna. Magnifico. Adesso, pianterà sia la ciocobacca che il platano. Oh, è tesa. Ah, non sopporta lo stile snob. Eppure si è vestita così. Accidenti, non è rimasto quasi niente, povero. le facciamo annaffiare il tutto e la mandiamo a dormire. Eccola qui che si è alzata. buongiorno. Come al solito ha fame, poveretta. Le facciamo mangiare il platano. Ecco, già va un po' meglio. Infatti, va abbastanza bene. Bene, a questo punto la mandiamo al museo per vedere se qualche pianta è diventata grande. E piove. No, sono andata in biblioteca. Vabbè, è un lapsus, mi sono sbagliata. Vorrei dire che ne approfitterà per finire il suo libro, sperando che ci riesca. Sta proprio messa male con i soldi, però. Incontra sempre lui, che chi è, come si chiama? È il bibliotecario. Trevin, però è carino. bene, ha ricevuto i rapporti d'autore e ha finalmente finito di scrivere il libro, ma è molto tesa. Vabbè, però almeno si è riuscita. spiamo Trevin. Non fartene accorgere, però, eh. Non è riuscito a combinare molto spiando Trevin. Accidenti, spia, ma non scopa mai nulla. Ok, adesso la mandiamo al ban e a darsi una bella ripulita. Ecco qui. Adesso mandiamola al museo, per favore, perché deve controllare queste benedette piante. Eccola qui. Allora, controlliamo queste piante. Niente, ancora niente. Non c'è proprio un cavolo da fare. Però è affamata, accidenti. Ma può rubare qualcosa qui? Niente. Non può fare una mazza. Ok, quindi la faremo viaggiare e vediamo se può origliare a casa dei pancake. Poveretta Efra, dice, origlia, origlia. Beh, origlia ancora? Eh, tesoro, dai, datti da fare. Qui non ci sono segreti? Oh, non è possibile. Sono così casti e puri, pancake. Vabbè, bussa la porta. Buongiorno. Ecco, Bob. Facciamo i vaghi e facciamo una bella presentazione rispettosa. Siccome lei è un po' maleducata, ha fatto amicizia con loro, ma andrà a vedere se c'è qualcosa in frigorifero e prenderà dei bei voltini di pizza. scusami un attimo, vado in bagno. Sì, come no. Mamma mia, zuppa come non si sa che. È vero che... Cacchio, è rimasta in cucina. Ecco, si è arrabbiata Elisa. E dai, non ti arrabbiare. Era meglio una cosa un po' più semplice, però. Dai, fatte l'amica. Ciao, scusami, ma sai, avevo un po' di fame, non ti dispiace, vero? Insomma, cerca di fare la simpatica raccontando una barzelletta. Ecco, delle grasse risate. Dopodiché, vediamo se andando su può rubare qualcosa. Cavoli, ma non può rubare proprio niente. Può curiosare, però. Curiosa anche nel letto e anche nell'armadio. Tenta di arrabbiare. arraffare, wow. Tenta di arraffare la lampada, dai, meglio di niente. Allenamento, no. Ah, Susanna ha scoperto che Elisa ha il segreto fatalità alla frutta. Wow. Molto bene. Curiosa anche qui. Bravissima. Oh, oh. Meno male, se ne è andata. E vai. Per un pelo. Oh no, se ne è accorta, mi sa. Eh sì, se ne è proprio accorta. Guarda come si è arrabbiata. Ma tu... sai, ho scoperto il tuo segreto. Lo dici sul serio. Ma io veramente... Quindi ti conviene stare attenta a come parli con me. Mh mh mh. Mamma mia. e a questo punto scatta il ricatto. Dai, non scherzare. E invece... Non sto proprio scherzando, cara Elisa. So tutto di te. Va bene, mi arrendo. Dai, soldi a me. E vai. Mi raccomando, non dirlo a nessuno, però. D'accordo? Certo, mi hai pagato. Ah, ci scherza pure. La spaventa pure. E dopo questa simpatica chiacchierata, la nostra cara Susanna approfitterà del loro bagno. Andrà appunto al bagno, ma poi si farà anche una bella doccia. E si raderà sti peli, che mamma mia. Sono tremendi. Sei arrabbiata. Ti prego, falla radere. Oh mio Dio, sei arrabbiata Elisa. Però almeno si arrasa i peli. Vai via, non ti sopporto. Esci da casa mia. Ah, sì, sì, mamma mia, per così poco. Beh, insomma, non è che ti sei comportata proprio bene bene, eh. Diciamoci la verità. E quindi lei se ne torna a casa. Eccola qua. È tornata a casa. Sì, lei è molto ambiziosa. E adesso venderà il suo libro a un editore. È candidato al premio. Oh, mamma mia, devo ricordarmene. Bene, scattiamo qualche foto qua e là. Ok. E soprattutto vediamo se riusciamo a costruire una specie di casetta? Credo proprio di no. No. Proprio no. Vabbè. Pazienza. Un momento, però. Bene, adesso la facciamo divertire un po'. Dove va? Farò una ricerca? E fai una ricerca? Bene, ragazzi, io direi che per oggi è tutto. La nostra amica sta andando decisamente alla grande. io però se è possibile. Ah, non c'è Elisa. Peccato. Eh, immagino che non abbia un buon rapporto. Eh, vedi, poteva andarci d'accordo invece. Vabbè, cercherà di recuperare il rapporto. Le manderà un messaggio. Non può farlo. Accidenti. E vai, però una videochiamata può farla. Elisa, ciao, scusami per il mio comportamento di oggi. Sono una persona molto dolce in genere, ma sai, sono un povero, avevo bisogno di soldi. Mi sento così bloccata e ho anche molta fame. Scusami, mi sento davvero un lama. Perdonami. Potremmo andare a vedere una partita insieme un giorno di questi? alla fine sono un tipo simpatico. Oddio, non so se gli ha chiuso il telefono in faccia. Vediamo un po' se è cambiato qualcosa. No. Credo di no. E ne indiamo un messaggio come chiacchieriamo per esempio con Nancy. Ciao, Nancy, che ne dici se vengo a trovarti un giorno di questi? Ok, ragazzi, adesso è proprio ora che la nostra amica vada a letto. Noi ci vediamo presto e ti consiglio di vedere il video della schermata finale, di iscriverti al canale e di lasciare un bel like. In questo modo non perderai gli altri video. Ti mando un bacio. Ciao, ciao, a presto. a presto.